E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Quest'oggi è un video molto particolare, come potete vedere sono armato di cuffie, macbook pro, ipad pro e anche il mio nuovo iphone 11 pro max Tutta roba pro su questo tavolo, è quasi tutta roba nera tra l'altro Anche la mia maglia che ho scritto life sucks, bellissima Siamo matchati oggi, siamo matchati perché voglio portarvi un video particolare Un video dove proveremo apple arcade Apple arcade, oramai l'ho detto in tantissimi altri video, è un servizio in abbonamento di apple Che è stato reso disponibile con iOS 13 che è uscito due giorni fa per il pubblico Che vi costa 4,99€ al mese e in cambio vi apre sull'app store, ve lo faccio vedere, una nuova categoria che appunto si chiama arcade Dentro la quale potrete trovare dei giochi esclusivi, quindi dei giochi che avrete solamente con l'abbonamento ad apple arcade Questi giochi sono tutti di una certa qualità e sono disponibili su iphone, ipad, mac e apple tv Che non avevo sbatte di portare qua C'è tuttavia da dire una cosa, su mac os non è attualmente disponibile, arriverà tra qualche mese Perché ho provato a scaricare i giochi che uso su apple arcade sul mac e non me lo fa utilizzare Mi dice che sarà disponibile tra un po' Quindi per il momento potrete godervelo su iphone, ipad e apple tv E ci sono un sacco di occasioni per provare questo apple arcade Mi è arrivato il nuovo iphone, è un modo anche per testare la compatibilità di ios 13 e ipad os 13 Anche se quest'ultimo non è ancora disponibile per il pubblico Con i controller della playstation 4 e della xbox one, dipende quale possedete E tra l'altro il mio caro amico jumpit che ha fatto due o tre giorni fa anche lui un video su apple arcade Ci sono già tipo più di 100 giochi La cosa interessante è che potete fare un mese di prova gratis Quindi comunque chiunque potrà provare apple arcade gratuitamente per un mese E poi scegliere se abbonarsi effettivamente oppure no Io ho attivato la prova gratuita e proverò un po' di titoli ovunque Uno sull'ipad, uno sull'iphone E giocherò sia con che senza controller, dipende dai titoli Quindi mettiamoci le cuffie Perché il primo titolo che voglio provare è assolutamente questo Sayonara Wild Hearts L'ha provato anche Jumpy È stato provato anche al keynote di apple Perché è tra i giochi più attesi di questo apple arcade E voglio assolutamente vedere con i miei occhi di cosa si tratta Cioè vedete ho appena aperto il gioco che è un gioco musicale peraltro Non è che tu cominci subito a giocare C'è una storia dietro Storia che io non vi sto facendo seguire Perché cominciamo a parlare Non so perché Praticamente questo è un gioco ad ostacoli Dovremmo fare un percorso a ostacoli Tutto psichedelico, strano E nel mentre recuperare degli oggetti Però sembra effettivamente un po' Gioco da console con i titoli di introduzione Wild Hearts Giochiamo È un gioco a livelli ovviamente Quindi andiamo ovviamente Facciamo solo il primo livello così Solo per prova Provo a narrarvelo io Una notte però un arcano maledetto Irruppe sui raccordi astrali Lui e le sue sciacurate alleate Sottrassero l'armonia Niente, mi sono perso Quindi queste tre divinità praticamente si sgretolano E creano questa donna Questa eroina Con i frammenti di un cuore spezzato Ecco infatti quello del cuore spezzato Che entra da una finestra E si impossessa Ah eccola qua Sì in alternativa ecco appunto Questa è in un trip incredibile Ok il gioco comincia Vedete che è tutto molto stroboscopico E non è affatto facile ragazzi Ora questo gioco si può giocare anche con i controlli touch Non sto a usare il controller Bisogna pensare in 5 secondi Per prendere tutti questi oggetti Forse dalla videocamera Non capite effettivamente quanto è complicato Forse sì perché sto facendo alquanto schifo ragazzi Niente raga Non ne sto prendendo mezzo Questo comunque raga è un trip incredibile Grazie per l'attacco epilettico finale Medaglia di bronzo Sostanzialmente abbiamo fatto caghera Questo gioco l'aveva provato anche Jumpy Quindi comunque io volevo provarlo Avevo fatto una partita Però adesso direi di concentrarci su un altro gioco E perché no ragazzi Perché no Questo secondo gioco Ce lo proviamo direttamente sull'iPad Pro Perché vi avevo promesso di provarlo un po' su tutti i dispositivi Ce lo mettiamo magari in posizione un pochino più favorevole E questa volta voglio usare il controller Quindi vi faccio vedere anche una nuova funzione di iOS 13 Che appunto vi permette di abbinare un DualShock 4 Oppure un controller della Xbox Quindi è veramente semplicissimo Basta andare nelle impostazioni Bluetooth Successivamente entra veramente in modalità Bluetooth Con il DualShock si fa Tenendo premuto il tasto PS e il tasto Share Contemporaneamente Finché la lucina qui non comincia a lampeggiare velocemente Eccola Ed ecco qua infatti che subito ci trova DualShock 4 Wireless Controller Io ci premo sopra istantaneamente connesso Cioè io posso giocare al mio iPad su Apple Arcade Con un Joypad della PS4 Che ovviamente si può abbinare anche all'iPhone Penso anche al Mac con Mac OS Catalina Ad ogni modo vedete io apro App Store qui E c'è anche qua la sezione Apple Arcade Risulterò già abbonato e potrò scaricare tutti i giochi che voglio Per esempio questo è esattamente quello che voglio provare Il nuovo Sonic Racing Che da giocare con un controller mi sembra più onesto Allora Scegliamo un capitano No ma questo gioco non è bene implementato il supporto per il DualShock Perché altri giochi proprio funzionano con i controlli nativi In questo modo invece si sposta solo la cosa del touch Spero che sia solo durante la selezione della gara E non poi anche durante la gara effettiva Ok no ok Ora però posso muovermi direttamente con il controller Ed è molto più comodo secondo me Raga è Mario Kart Cioè lo so che dire che Sonic è Mario è un po' una bestemmia Però Cioè è bellissimo mi sembra di giocare alla Wii o alla Nintendo Switch Infatti facevo schifo lì e faccio schifo anche adesso Ecco per tutti quelli che mi chiedono Ma come mai Black G che non hai mai portato gameplay sul tuo canale eh Molto probabilmente in questo video scoprirete anche la risposta alla vostra domanda Che mi fate da anni Perché io sarò tipo la terza volta in vita mia che prendo in mano un joypad E mi pare che si veda tra le altre cose Cioè gioco meglio ad asfalt Veramente imbarazzante Certo poi tutti gli ostacoli del mondo ovviamente li vado a prendere io Ultimo giro dai raga adesso ci concentriamo Facciamo le curve strette Non così strette Eccolo Dai 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 Acceleratori Questa curve l'ho fatta larghissima Nooo Ho preso l'ostacolo Comunque raga non commentate la mia bravura nel fare i commentari Perché qua Uno scopo è provare Apple Arcade Non fare un gameplay E infatti E infatti Cioè io cosa ve lo dico a fare Arrivo nella squadra perdente Per forza Ma raga comunque divertentissimo Veramente super divertente Poi giocare col controller Su uno schermo come quello dell'iPad è Fenomenale secondo me Dai prima di salutarvi Voglio fare un ultimo gioco Col mio iPad E col controller Perché mi sono preso troppo bene Sono ancora nella sezione Apple Arcade E come potete vedere una cosa molto bella È che qui ci sono le categorie Quindi potete andare a scegliere i giochi In base al genere che vi piace di più Per esempio Vediamo i giochi platform Io questo volevo provarlo troppo Rayman Mini Ma sapete che però mi ispira anche questo qua Spider Sours Li proviamo entrambi E poi vi saluto Che questi due giochi Secondo me da giocare col controller Sono una figata Ok Rayman l'ho installato Quindi possiamo giocarci Apple Arcade Questa è proprio la schermata di caricamento tipica Di Apple Arcade È proprio come se fosse Non so tipo un cabinato Come se fosse un brand di una console Capito Qua dovrei essere abbastanza schillato Infatti Tra il gioco di prima E quello di adesso Beh praticamente Super Mario Bros E Super Mario Kart Che poi questo è anche un gioco Tipo che i nostalgici Adoreranno tantissimo Io non troppo Perché comunque da piccolo Non è che ci giocassi poi così tanto Però poterlo giocare su iPad Con la qualità di Apple Arcade È una cosa Fenomenale vi giuro Ma io sono curioso di provare anche questo gioco Che ho visto così su Apple Arcade Perché Apple Arcade funziona così Voi vedete un gioco Vi spira Proviamolo E poi ci giocate le ore Ok quindi salto con X E sparo con quadrato Vai Ma si può correre tipo in questo gioco Vedete che è incredibile comunque come io riesca sempre a farmi fare danno Cioè è una cosa impressionante Questo è tipo un boss No non era un boss Ha durato poco Oh no mi sono intrappolato Ma non può andare più veloce questa Cioè andavo più veloce io la mattina quando andavo a scuola Ecco poi facevo esattamente quella fine lì Cosa c'era in quella coscia di pollo Ma ci siamo evoluti E l'evoluzione la scoprirete voi Quindi ragazzi io spero che questa prova di Apple Arcade Sull'iPhone 11 Pro L'iPad Pro E il MacBook Pro Vi sia piaciuta Se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui là ti potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qua al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video Grazie Parkinson Grazie a tutti